Ecco dai, buongiorno! Oggi siamo in quel dì di Brozzi, Firenze, quando la sosta di 24 ore fuori casa sta passeggiando su una delle vie principali, la via Pistoiese, che da Firenze ti porta a Pistoia. Ora voglio condividere un attimo qua Firenze, Firenze, Brozzi, che è alquanto pulita. Per terra si tratta solo fogliame, solo, solo, solo fogliame si tratta per terra. Non è come in tutte le altre città, Palermo, Catania, Messina, Roma, Napoli, Milano, Pavia, Parma, Piacenza... Vabbè, qualche cessione ci sta pure là, però sta vicino ai secchi del Mondizio. Comunque dai, possiamo dire che al momento attuale è abbacanza pulita. Firenze e l'Interlanda a Firenze. Se guardate, è quasi impossibile trovare una cicca di sigarette a terra. Se notate bene, complimenti ai fiorentini, a coloro che abbinano qua in zona. Veramente, veramente complimenti. Sì, sì, sì. Una bella villa. Se tu vieni, bifamiliare. Una bottiglia. Poi il piano se la cava, vedi? Che l'ho pizzicata la bottiglia. Ce l'ho pizzicata la bottiglia. Eh, sì, dai, dai. Questa è la seconda, eh. In pochi metri. La seconda bottiglia che trovo, eh. Allora, qualche sporcaccione. C'è pure qua. Ah, che sporcaccione. Un bel giardino qua, sai quante cose ci potrei chiantare qua dentro io. Uh, guarda che bello. E' una giornata abbastanza con cielo coperto. Leggimentafoso. Speriamo che non mi prenda la pioggia al ritorno al camion. Se no sto nella cacca, nella pupù. Comunque qua a Firenze c'è proprio la psicose del virus. Qua a Firenze. E' a Firenze che hanno fatto il lavaggio del cervello. E' di persone da sole, in macchina, con lo scooter. Eh, che c'ha la mascherina. Il lavaggio del cervello a 360 gradi che hanno fatto. Vabbè, ognuno è il libro di fare quello che gli pare. Ognuno è il libro di fare. Quella mordicella. Io la mascherina e il luogo è l'aperto dove non c'è nessuno. Non la porto. Quando entro nei locali pubblici sono obbligato a portarla. Anzi, anche se è un testo del TULPS. Testo unico di leggi di pubblica sicurezza. Pieta entrare nei locali pubblici con il discoperto. Comunque, soprassediamo a ciò. Dai, ragazzi. Ehi, ecco qua. L'aereo che è decollato adesso dal aeroporto di Firenze. Dal aeroporto. Dai, ciao a tutti. Buon sabato. Buon sabato a tutti quanti. Mi raccomando iscrivetevi, mettete un like e commentate. Che ragazzo giovane qua. Nel 2005 è scomparso questo ragazzetto. Gironissimo. Riposi dove sta. O di là o di qua. Dai. Ah, ma la coppa è della coppa. Allora dopo vado dalla parte apposta a fare il burro. Dai, ciao a tutti. Ciao a tutti e buon weekend. Ciao a tutti.